Tutta questa ultima tegola sui vaccini, come impatta sull'Europa? Io mi auguro che non ci sia un impatto, l'ha spiegato molto bene anche la professoressa Viola, sui piani vaccinali non dovrebbero esserci grosse ripercussioni, anche perché comunque c'è sempre la possibilità di riorganizzare il piano vaccinale dedicando magari queste dosi a delle fasce di età dove non si sono registrati neppure quei rarissimi casi che si sono registrati in altri. Tra l'altro i piani vaccinali sia a livello europeo che a livello proprio nostro nazionale implicano una diversificazione, quindi non è che noi siamo legati ad un solo tipo di vaccini. Le bollettinagli andrà ognuno per conto suo, anche stavolta in Europa? No, io mi auguro di no, credo che adesso dovremo tutti aspettare anche le indicazioni dell'EMA e che poi ci si possa muovere in maniera coordinata. Certo, ci dobbiamo sempre ricordare che l'Unione Europea ha 27 governi con possibile, non è che possiamo obbligare un unico piano vaccinale. Ci possiamo coordinare, credo che sia un processo in cui abbiamo anche imparato purtroppo, anche strada facendo, quello che è accaduto con AstraZeneca nei mesi scorsi è servito e servirà anche per capire e regolarci su questi altri casi, aspettare quello che dice l'EMA e muoverci in maniera più coordinata possibile. Ma non credo che ci saranno ripercussioni. Bene, meno male, anche perché comunque i vaccini li ha comprati l'Europa per tutti quanti, poi invece abbiamo visto che non c'era tutta questa unanimità. Senti Stefano,